Lei mi insegna che una sagra di un prodotto tipico, nel momento in cui non vi è la presenza istituzionale del Comuno, della Prologo, stiamo parlando che si faranno delle caldarroste per la gente, lo può fare anche un privato, manca il respiro istituzionale, non so per quale motivo, questa sagra voglio ricordare che non si faceva da diversi anni, è stata rilanciata dalla mia amministrazione nel 2010 con grande sacrificio, anzi proprio con un impegno totale da parte dell'assessore Francesco Viola, questo lo voglio ricordare a tutti, tant'è che nelle prime edizioni c'è stato pure un grande successo della sagra. Oggi vi era anche la possibilità di agganciare alla sagra un finanziamento che abbiamo ottenuto, questa è la mia terra, per 51 mila euro e avremmo potuto integrare quel progetto. Ma quando poi c'è una chiusura, è avvenuto già altre volte, è proprio un vizio radicato questo, è avvenuto 30 anni fa che io ricordo, 35 anni fa, cioè la sagra che va bene, anno dopo anno, poi ad un certo punto le diatribie, le lotte tra fazioni, eccetera, eccetera, impediscono alla stessa di progredire e di andare avanti. Quando poi i finanziatori dicono, vabbè vi diamo dei soldi però dovete eliminare il comune, noi che possiamo farci? Ma il respiro non ce l'ha questa sagra, così come è stata concepita.